E la prima ad essere messa in riga è stata la precedente tata di Silvio, Licia Ronzulli. Poverina, una che si è fatta dal nulla, è partita come infermiera, è diventata braccio destro di Silvio Berusconi, senatrice di Forza Italia e membro del Copasir. Sulla triste parabola della Ronzulli è intervenuto anche Feltri. Cazzo ha fatto la Ronzulli perché c'è... Probabilmente ha usato le copie di Libero come lettiera del gatto. Comunque una cosa è certa, in Forza Italia adesso comanda la fascina. Qui per esempio lei gli sta dicendo Fammi vedere cosa cazzo stai scrivendo.